buongiorno a tutti ragazzi oggi siamo in provincia di piacenza a castellarcuato in val d'arda uno dei borghi più belli d'italia in val d'arte adesso siamo entrati a vedere la rocca viscontea è rappresentata per reggere un assedio di circa 4 o 6 mesi con 200 o 300 persone letteralmente accampate all'interno e questo era possibile per un unico motivo con l'acqua sotto una grama più piccola c'è l'assortiva copilata nella pietra che è importante perché intanto voglia dire che nessuno possono venenare la terra che può fare il castello migliore del mondo ma senza l'acqua grazie a tutti Grazie a tutti. Guardate che bel panorama da qua e non siamo ancora in cima. Milka è stufa, vuole attenzione. Vai, balza! Ti sta scrutando, ti guardi se adesso te la faccio in testa. Ed eccoci arrivati in cima alla torre. Guardate, da qua si vedono i camper. Castello Arquato è un borgo medievale che sorge alla sinistra del fiume Arda, che è giù di là. Il nome deriva da Caio Torquato, romano che lo fondò all'epoca. Qui ci troviamo sopra il mastio della Rocca Viscontea che fu voluta da Lucchino Visconti nel 1342. Finito, si torna giù. Bella, bella Rocca Viscontea. Questo è il palazzo del Podestà del 1292. In mezzo alle finestre ci ha affrescato lo stemma di Castello Arquato, che rappresenta due leoni rampanti e la torre merlata di Castello Arquato. I due leoni rampanti erano il simbolo degli sforza che subentrarono ai Visconti. E questa invece è la collegiata di Santa Maria. E quella là sopra è la loggetta delle Grida, perché venivano letti gli editti comunali. Per stamattina siamo a posto, adesso andiamo in camper a mangiare. E poi vediamo se tornare oggi a vedere il museo geologico e fare ancora un giretto, prima di tornare a casa. Buon, abbiamo finito di pranzare, adesso ci facciamo ancora un giro in paese al museo geologico e poi dritti a casa. Questa scalinata, che è quella della scalinata ospedale, è piena di conchiglie. È fatta con le rocce, boh, dove l'avevano prese, non lo so, però è piena di conchiglie. Niente museo geologico, preferiamo andare a fare un giro, ma ancora un po' per i paesi. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Siamo arrivati in camper, tanto che Marta si mangia una caramella. Rubo le caramelle. Li salutiamo. Ciao a tutti, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao a tutti. 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 Grazie.